parte con il destro direttamente verso la porta fuori di poco viene a raccogliere alexandre poi va dentro per il cross con il destro lungo proprio per alexandre che di testa non perdona e sblocca la partita 1 a 0 adesso avila è andato al centro prova lo scambio per dare in qualche modo recupera il possesso del pallone va al tiro murato ostretto ad uscire senza fallo la palla è ancora nella disponibilità della lazio che raddoppia con questo grandissimo gol dalla distanza è 2 a 0 due uomini della lazio in pressing sul portatore di palla colpo di testa direttamente in porta inaspettato qui il 3 a 0 colpo di testa dalla lunghissima distanza amico ancora amico mezzo la rovesciata buona l'idea non è finita la palla rimane lì per la conclusione di colasanti bella l'azione della lazio in questa occasione colpo di testa di amico la palla resta lì buona per avila c'è ledesma sulla destra vediamo cosa sceglierà avila serve ledesma che mette dentro cala il poker la lazio adesso servito colasanti entra nel rigore è lì il pallone a tu per tu con il portiere non sbaglia e all'alba del secondo tempo c'è anche il quinto gol a tinte bianco celesti cross in mezzo per la testa non riesce a trovare la giusta spinta mettere in porta e poi il sesto gol della lazio incoronato per garufi in mezzo la palla rimane lì di sconti chiamato il tiro dai compagni c'è però il tap in di garufi per il gol della bandiera buona l'idea era già scattato il capitano bianco celeste intanto fino in fondo incoronato serve in mezzo piras buoni i riflessi del portiere scevola per l'entrante garufi la partita finisce qui la lazio che archivia la pratica con questo 6 a 1 sconfiggendo una fraschetta del pesce ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale